Allora, è molto piacere in questa messa di presentare il secondo coro della categoria Under 209, che sono gli Ensemble Vocale, Over 12 e Senni Anzita. Pensa ai ragazzi, ai ragazzi nati negli anni 90 e a quelli nati nel 2000. Ora pensa alla musica, al rock, al pop, alla Disney, al musical, al gospel, a quella italiana e a quella straniera. Fatto? Bene! Metti tutti in un frullatore e spam! Ecco gli OT! Noi siamo musica per tutte le tante! Se dovessero chiedermi chi sono gli Over 12, direi sicuramente che siamo un gruppo di ragazzi uniti dalla musica. La musica è come un giardino in cui noi ci incontriamo per cantare, ballare, ma anche per esprimere le nostre emozioni. Un posto dove ci lasciamo emozionare dalla musica. Sono convinta che niente unisca più della musica. Gli Over 12 SMA hanno deciso di devolvere la loro eventuale vincita a Kairos, che è un'associazione no profit nata a Lambrate nel 2000, per iniziativa di Don Claudio Gurgio. L'associazione si occupa principalmente dell'accoglienza di adolescenti e ragazzi in difficoltà. Per i ragazzi accolti viene creato un ambiente familiare, fatto di attività di gruppo, collaborazione, socializzazione e anche spiritualità, ritenuti indispensabili dall'associazione per l'educazione e la crescita dei ragazzi. Sì, a volte siamo ci sono poche semplici, usciamo dalle righe. Beh, però forse anche questo è il bello del nostro gruppo, che riusciamo a essere noi stessi anche durante le prove. Poi ci sono Fabio e Simona che ci richiamano all'ordine e se non fosse per loro non arriveremmo di certo preparate ai concerti. O no! Grazie! 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 I need you my heart, I know it to get mad in broken pieces I need you my heart, my heart, my soul, take control Me, I love you, I love you, I love you Me, I'm sobbing, I love you, I love you I love you I love you